Grazie a tutti! 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 a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 Si trincea! Si trincea! Si trincea! Si trincea! Si trincea! Si trincea! Pitya on deck! Da! Sì. 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 All'attacco! Dategli addotto! Ora! Sì! Sarico! Sì! 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 Sì, 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 sì. Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! 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 Stai ricaricando ragazzi! Stai ricaricando! Muoversi! Stai ricaricando! Stai ricaricando! Guardatevi le spalle! Muovetevi, topi di trincea! Scrava, fratello! Stai ricaricando! 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 Bastardi! Usano il gas! Merda! Stanno colpito! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!